Ci potete dire come meditare? Immaginate di entrare in una luce incandescente, dove vi perdete gradualmente fino a fondervi con l'incandescenza della luce. La luce è una coscienza molto più ampia della vostra. La luce è una coscienza molto più ampia. La luce è una coscienza molto più ampia della vostra. La luce è una coscienza molto più ampia della vostra. La luce è una coscienza. La luce è una coscienza. La luce è una coscienza.